annientamento annientamento questa è la parola a mio avviso è la parola più appropriata da associare alla vita annientamento la vita in sé alle volte fa davvero sentire annientati già sconfitti in partenza annientamento la società ciò che fatica a dirlo società umana alimenta l'allientamento non riesco neanche a dirlo perché non escono neanche le parole la società umana gli esseri umani alimentano l'annientamento quindi una duplice forza altro che la forza di gravità che ti spinge verso il basso la vita non so se a voi capita mai però a me ogni tanto sì ho questa sensazione sto per finire la mia vita sta per finire ti guardi proiettato in avanti come sarà come sarò a 50 60 70 anni poi senti ma forse non ci arriverò neanche non ci non mi ci vedo mi accadrà qualcosa prima ma c'è anche da dire che questi pensieri potevano anche arrivare la mia mente quando avevo 15 anni e mi dicevano a 30 anni secondo me non ci arrivo poi ci sono arrivato semplicemente non lo si sa a volte penso mamma mia quanto sarà brutto quando mio dolce ragù mio figlio lino non ci sarà più terrificante dopo 15 anni di vita insieme al momento poi se morirà quando ne avrò ne avrà 20 20 anni insieme molto viscerale molto molto attaccati è un vuoto incolmabile poi però penso ma chi ha detto che morirò prima io scusate prima lui di me non è detto potrebbe accadere anche il contrario ma perché ogni notte noi potremmo scomparire potremmo mai risvegliarsi il mattino seguente poi ho anche se non è ancora una malattia avanzata però ho anche qualche percentuale di possibilità in più di avere infatti ictus cose del genere per la mia patologia ai reni che di solito manifesta i suoi sintomi più in tarda età però qualche percentuale più di possibilità di brutti eventi ce l'ho io rispetto ad altri e quindi potrebbe accadere anche questo però mi dispiace questa idea allo stesso modo perché puoi immaginarmi lui che deve vivere gli ultimi anni senza di me senza sapere neanche perché non ci sono più mi fa sedice assai forse oggettivamente parlando ne soffrirei più io perché a mio viso la mente umana soffre di più della mente dell'animale però in ogni caso anche lui soffrirebbe se io non ci fossi più all'improvviso quindi a questo punto che forse preferisco una enorme sofferenza per il sottocristo piuttosto che una media sofferenza per lui ecco nel caso non lo sappiamo allora questo da un senso di annientamento e viene voglia di viene voglia di in certi momenti di boh di così sprofondare poi vale quello che ho sempre detto la vita non è bella ma figuriamoci se la vita è bella però è bello fare alcune cose in questa vita essere alcune cose in questa vita che cosa sicuramente è bello essere gentili è bello essere buoni è bello essere sinceri è bello però le volte l'allientamento lo percepisci lo stesso per quanto sia bello essere buoni gentili persone di valore in un mondo di persone che sanno soltanto vedere il valore delle cose materiali è bello essere persone di valore è chiaro che questa tua essenza bella è invisibile sarà invisibile ai più e niente come la società umana la falsità l'incapacità di essere veri sinceri e di la cattiveria ho visto un post oggi di uno che è stato tipo massacrato in carcere non ha più il volto praticamente tutto il volto massacrato perché dei detenuti l'hanno ridotto così in quanto lui era in ragione perché aveva massacrato la sua ex fidanzata rendendogli riconoscibile il volto e allora in carcere gli hanno fatto la stessa cosa l'idea di questo evento che veramente è pietoso incommentabile sia quello che ha fatto lui all'area ex fidanzata sia quello che i carcerati hanno fatto lui prova a vedere i commenti e non uno su due il 98 per cento dicono bravi grandi questa giustizia avete fatto bene leggi queste cose capisci che davvero questo è il loro cuore ti viene da dire annientamento perché non solo perché hanno questo cosa magari un impeto di rabbia non sapere quello che aveva fatto fuori alla sua ex ma la cosa che ti fa sentire annientamento che pensano che sia giusto questo sia il mondo il mondo giusto in cui si avviene di cattivi a legge del taglione ci sono cattiveria violenza e allora nientamente mi viene da dire quasi quasi io perché devo far parte di questa società in maniera attiva in parte è indispensabile cioè è necessario è impossibile non esserlo parte però magari posso ridurre la mia esposizione quasi quasi chiudo il mio canale youtube quasi quasi chiudo il mio account instagram facebook tito chiudo tutto chiudo tutto perché sia la vita sia la società forse non meritano la mia presenza quindi non vi preoccupate se sparirà il mio account instagram se sparirà il mio account facebook il mio account tito il mio canale youtube tutte queste cose o alcune di queste se dovesse accadere semplicemente è un mio modo per dire che vergogna che schifo che pena che vergogna che schifo che pena annientamento annientamento totale annientamento 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 annichilismo ma è la vita che annichilisce la società che annichilisce poi bisogna essere capaci di resistere resistiamo viva comunque essere buoni gentili e sinceri però alle volte inevitabile sentire questa voglia di profondare e di abdicare e di volare via e di alzare bandiera bianca sul ponte svento la bandiera bianca poi sono momenti e poi passano probabilmente però davvero quasi 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 davvero mando a quel paese tutti i social chiudo instagram facebook canale youtube ma si dai non lo so ci penso se dovesse accadere ripeto se scopo dove dei primi profili sapete perché uno sciopero contro la vita uno sciopero contro la società perché veramente triste 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 il comportamento dell'essere umano medio è drammatica la vita e allora ti viene da dire ma che senso profilo facebook che senso profilo tiktok la gentilezza la bontà la sincerità sì che hanno senso per il profilo tiktok dover vedere no le cagate che la gente propina dover essere a contatto così vicino nel mondo tra l'altro già il mondo fuori è osceno in casa mia pure devo vedere l'oscenità del mondo mediante i social dovrebbe ritirarsi davvero in campagna senza luce elettrica senza connessione internet annientamento annientamento chi morirà a ragù prima prima io prima te non lo saprò mai o meglio se morirà prima lui lo saprò e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè mio piccolo lei abbiato tu che corri gioioso inconsapevole beato te beato te raguncino che ti godi le caresse ignaro della vita del mondo dell'uomo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 Grazie.